Da quanti anni hai anche qua? Io ho 50, quanti anni hai? Non ho mai due sogni figlio. 80 anni. Io 80 anni, tu l'hai 80 anni, non l'ho. Qui siamo a Fondo Fucile, uno degli 86 quartieri di Messina in cui si vive ancora nelle baracche. Lavorava lei? Io salvaggiava, salvaggiava le scale, salvaggiava i cartoni, le scale. Ho fatto anche pure certe cose che non dovevo fare. La prostituta, poi secondo me mi rispio, e io ho preso a lui. Tutto grepato. Qui c'è il lamianto. Ogni sera qua spacciano. Ho visto che tenete anche i gatti che aiutano per i topi. Perché ci spaventiamo, diamo a mangiare, però sono fuori. Però è per il fattore che passano questi topi, dove abbiamo le calanette. Però le abbiamo chiuse, ma se ci sono aperte, perché arrivano pure dalla fogna di sotto. dove c'è la strada, c'è una balata che arrivano fino a qua e si sentono i gatti e i topi che vogliono uscire dalle calanette. E' bellissimo qua, il cane morìa, manco se mi pagherìa. Lo fai via. Noi vivevamo qua. Casano te mette a cogliere l'acqua, non vedi che siamo combinati con l'ossigeno. E qua quanti anni siete stati? Allora, la mia compagna è quasi 30. Ma qui si parla di asma, qualunque altra cosa. Qua di umidità, di tutto quello che vedi. Chi se ne va deve stare attento a come lascia, perché se lascia la casa può entrare qualcuno e poi avrà dei problemi. Quindi è lo stesso ex proprietario che se ne va a controllare? Sì. Così funziona perché lo sta facendo mio padre che a lui già gliel'hanno data la casa. La sua messa va Gyna there. La sua messa, vai tie lassarea dove scrive la vostra più alta. Chi... Chi...